Vi siete mai chiesti cosa accade dietro le quinte del mondo televisivo italiano? Immaginatevi uno scenario inaspettato, un colpo di scena che ha il potere di scuotere le fondamenta stesse della tv pubblica. Oggi, cari spettatori, ci troviamo di fronte a una di quelle notizie che sembrano quasi incredibili. Amadeis, il volto amato e riconosciuto di numerosi festival di San Remo, sembra essere al centro di una tempesta mediatica senza precedenti. Prima di tuffarci in questo vortice di eventi, ricordatevi di iscrivervi al canale, di lasciare un like e di attivare la campanella per non perdervi nessuna delle nostre prossime esclusive. In un mondo televisivo dove la fedeltà sembra essere una moneta sempre più rara, le voci che circondano il futuro di Amadeis ci offrono uno spaccato affascinante e allo stesso tempo sconcertante. Secondo le ultime indiscrezioni, una proposta lavorativa al di fuori dei confini della Rai potrebbe sedurre il nostro amato conduttore verso nuovi orizzonti. Ma quali sono le forze in gioco in questo scacchiere mediatico? Da un lato, abbiamo Discovery Warner Bros, che sembra puntare fortemente su Amadeis per un progetto rivoluzionario nel mondo dei game show e degli eventi musicali. Dall'altro, un corteggiamento che sa di leggenda, Pier Silvio Berlusconi in persona avrebbe messo gli occhi sul talento e carisma di Amadeis, offrendogli un ruolo di spicco all'interno dell'emporio Mediaset. Queste mosse di mercato aprono scenari intriganti e pongono interrogativi cruciali. Cosa significherà questo per il pubblico fedele di Amadeis? E per il panorama televisivo italiano, così ricco di tradizioni e cambiamenti? Mentre il futuro del nostro caro conduttore rimane avvolto nel mistero, una cosa è certa, le proposte che gli vengono fatte sono la prova tangibile dell'impatto che ha avuto e continua ad avere nel cuore degli italiani. In attesa di scoprire come si evolverà questa vicenda, ci troviamo davanti a un video storico per la televisione pubblica italiana. Che strada sceglierà Amadeis? E come reagirà il pubblico a questa possibile svolta? Siamo ansiosi di leggere i vostri commenti e le vostre riflessioni su questo argomento. Non dimenticate di seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del mondo dello spettacolo. Grazie per averci seguito, e vi aspettiamo al prossimo video per scoprire insieme il futuro di uno dei volti più amati della tv italiana.